Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di novità in amore, una domanda che mi ha fatto una follower. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti anche al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, del quale ti metto il link qua sotto. Allora vediamo per questa follower novità in amore, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra i numeri dall'1 al 9 mi viene spontaneo scegliere il numero 3. E vediamo come prima girata quello che porta 1, 2 e 3. Allora abbiamo l'imperatore, l'imperatore che è al contrario, quindi significa che questa è un po' la situazione attuale, quello che riguarda la situazione attuale, quindi l'imperatore girato al contrario è una situazione attuale con una persona ostacolante, un maschio ostacolante. 1, 2, 3. La necessità di un profondo cambiamento, questa è un po' la situazione attuale, poi vedremo il divenire. 1, 2 e 3. Perdita di tempo, 1, 2 e 3. E finalmente può arrivare una persona che invece mentalmente crea una connessione positiva. Quindi da concludere necessariamente con questa vecchia situazione, da concludere necessariamente, perché porterebbe a una perdita di tempo e apre, se chiusa questa situazione, la porta a un incontro con una persona, con una connessione mentale molto forte. Vediamo il divenire. 1, 2, 3. L'inizio sarà molto complicato, il bagatto è la carta 1, al contrario, quindi un inizio un po' tormentato. 1, però c'è un inizio. 2 e 3. Molto tormentato, perché questo inizio prevede una rottura immediata. Quindi c'è un inizio di qualcosa con rottura a seguito. E vediamo però cosa ci riserva ancora. 1, 2 e 3. Ecco, finalmente dopo questa vicissitudine, non so, una conoscenza o qualcosa, arriverà un'unione molto più solida. 1, 2 e 3. E che ci potrebbe essere un giudizio ostacolante, diciamo così, però l'unione solida c'è. Anche se bisogna far fronte a un giudizio negativo da parte di altre persone. E vediamo la carta di sintesi. 1, 2 e 3. Che è l'imperatrice al contrario, che significa che non bisogna temere, non bisogna avere paura degli antagonisti, perché se si temono, se si ha paura degli antagonisti, si blocca il tutto. Quindi, riassumendo, situazione attuale da chiudere, morte al contrario, per evitare la perdita di tempo. Ci sarà una possibilità di conoscere una persona. Nel frattempo un inizio è una fine, quindi un qualcosa di rapido. Può essere una conoscenza, qualcosa che muore sul nascere, diciamo così. E successivamente, invece, c'è un incontro stabile, se si supera un po' il giudizio negativo nostro o di altre persone, in questo caso della consultante, e che deve anche non temere antagonisti, avere la giusta forza interiore, la giusta forza mentale. Quindi le novità ci sono, leggermente travagliate, ma facendo le mosse giuste si possono ottenere i risultati giusti. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Ti posto il link qua sotto. Ciao a tutti!